ciao a tutte e a tutti ciao ragazzi e ragazzi eccoci qua buona domenica siamo arrivati al all'esse lunga all'esse lunga si ci sono andata anch'io anch'io presente questa volta si abbiamo comprato la partecipazione insomma sono venuti a fare un po fatica diciamo un po dopo troppa fatica quasi direi che non è il discano supermercato più economico che abbia mai visto abbiamo fatto un po un test diciamo che ci siamo un po allora incollati quella sì sì beh abbiamo preso alcune cose in totale abbiamo speso mi sembra sulle 25 26 euro abbastanza come test va abbastanza bene come pezzi ne abbiamo presi come mangiare avevamo già bisogno di altre cose che adesso che adesso stefano vi mostrerà la per il momento la cosa cos'è tutte quelle cosine che ci sono lì abbiamo preso il come si dice il volantino il volantino offerte dall 1 al 14 non abbiamo ancora fatto la tessera perché oggi avevamo un po di premura però abbiamo preso alcune cose comunque c'è scritto ci sono gli sconti solo per la tessera giusto allora bene entriamo subito nel la faremo sì però magari abbiamo intenzione di farlo e quindi questo tanto ci guardiamo queste una volta è finita le mettiamo per il canarino cominciamo subito la nostra raffica di essere lunga allora occhiali li levo scusate che siamo un po trafelati un po sudati ma oggi c'è veramente caldo le farmacie fuori segnano 38 però troppo umido troppo umido va bene allora cominciamo subito con il latte parzialmente scremato s lunga eccolo qui vedete il latte prodotto per s lunga sembra latte italiano vedersi così adesso però non è non se che siamo molto anche se viene dall'europa va bene lo stesso va bene quindi questo latte s lunga che l'ha visto monica che ha avuto si vede il colpo d'occhio migliore del mio e dicevo non lo trovo non lo trovo allora questo qui il latte da questo qui si poi c'è anche un altro così poi ci sono i fattoretti di carta smart smart che è la loro linea che ce ne sono tre abbiamo detto che avremmo preso qualche qualche prodotto smart questi sono 15 pacchetti 15 pacchetti con da non so quanto saranno da cinque tre sei sempre lo dieci si va bene quindi questi sono i classi fa un po venire in mente la monetina della dell'ipercoppa della coppa la gialla quella gialla che era non mi ricordo si chiamava la non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo ma questa qui è la mousse che in genovese vuol dire un'altra cosa la mousse è vedete qua è fruttini come richiamo io i fruttini i frutti monica richiamo i fruttini sono polpa di mela però sono della www.melinda.it 99 98 centesimi però vedete che ce ne sono due due confezioni da 100 grammi poi vi saprà dire monica come ma sono tutti buoni ma sono tutti buoni quelli che ho provato tutti buoni è una sottomarca della melinda ma proprio penso che sia melinda perché c'è scritto www.melinda ah beh non basta forse magari una sottomarca non prendiamoci tempo su questa cosa facciamo una minima di discussione va bene poi poi siccome viene spesso bisogna trovare mia cognata con la bambina eccetera magari la deve cambiare con le bambine la più piccola si con le bambine che hanno bambini la più piccola ha ancora bisogno del pannolino quindi noi ci siamo prima uniti siccome la cambia sul letto sul nostro letto ci siamo prima uniti di queste traverse le mettiamo così lei si può cambiare il suo pannolino in perfetta tranquillità e così più i genitori bisogna organizzarsi le 10 si devono organizzarsi e queste qua sono 10 traverse servoletto clinicamente testate elevata assorbenza eccetera quindi per questa qui viene quando viene mia cognata non costano tanto trovato no ce ne sono solo 10 traverse ce ne sono 10 3 euro e qualcosa 3 euro e qualcosa non è tanto non è molto vedete qua marca S lunga la vedete poi cosa abbiamo nel nostro perché ci sono anche i biscotti mi piace quando uno rabatta i biscotti ah i biscotti guardate cosa c'è qua i biscotti questi sono tutti per me frollini con granelli di zucchero questi sono chiaramente copiati dai vecchi del mulino bianco comunque sono lunghi anche questi qui non costano molto per mettere sovraimpressione 800 grammi sì perché da altre parti trovi 1,99 700 grammi questi qua sono 800 grammi questo conviene questo qua conviene quindi è un po' come da fare un po' lo slalom un po' lo slalom perché ci sono certe cose che costano meno ci sono alcuni prodotti che vale la pena di comprare e altri la sensazione che abbiamo avuto bisogna stare attenti perché sennò ti partono sì bisogna stare molto attenti con la calcolatrice eccetera perché se uno non sta sempre prende e mette nel carrello vabbè uno se può ok quindi questi qua sembrano buoni poi li proverò a colazione domani noi siamo i fissati dei risparmi quindi moni e te i fissati dei risparmi o i fissati con il risparmio poi magari faremo questa modifica così perché abbiamo visto che piace che si pratica questa cosa e cos'è che volevo dire prendere la roba sì no lo so che devo prendere la roba lo so c'è premura eh l'orologio lì sono le 5 e 17 ecco ecco poi questo qua questo tappo qui vedete è da mezzo litro era questo che cercavo parzialmente scremato S lunga c'era una riga di interi e di scremati eh sì beh ognuno c'è i suoi colori ben definiti un attimo di differazione però vabbè poi io l'ho visto l'altro però se uno ne prende due da mezzo va a spendere di più va a spendere comunque questa è la bottiglia forse magari è identico è identico è lo stesso che lo dite anch'io solo che non è con il cartone ma nella plastica poi poteva mancare e poteva mancare no smart smart vedete qui carta igienica dello stesso modello di quella che si trova analoga all'euro spina all'info c'è la lidl anche alla lidl c'è e poi hai male di testa voi no lo vuoi adesso in diretta no no perché io stanno svegliando mi sono sparato un occhio potente così umido in casa abbiamo dai 29 31 gradi massimo ecco e usiamo i ventilatori chiaramente perché non abbiamo ma non ci serve neanche il condizionatore qua c'è arrivato un messaggio mi sa che ha scritto tua mamma ah allora corrisponde perché sto usando il cellulare di monica che ha più memoria va bene quindi questa è la carta di quella bella pesantina che piace a noi non lo so l'abbiamo presa un po' a scatola chiusa perché a noi non c'erano i prezzi una cosa che è da dire è che in certi punti mancano i prezzi non so perché è tutto perfetto in quel supermercato però ci sono dei posti dove mancano i prezzi anche lì da un po' fastidio non ci sono quelle autoletture che ci sono in certi supermercati però bisogna andare a chiedere alla cassa loro gentilmente molto gentili sono gentili molto gentili parentesi se ci siamo presi anche andati al bar che c'è di vicino che bel bar che c'è che bello molto bello molto molto bello abbiamo preso un caffè macchiato c'era pieno di gente che veniva anche dal mare pieno stranieri vista mare stupendo stranieri eccetera tanti stranieri tanti tedeschi che abbiamo qua noi a Genova ce ne sono tantissimi non sono proprio come me sono biondissimi una ragazza è stata un metro e ottanta è passata vicino una ragazza che era alta tanto così prima ma proprio di assature proprio più grosse sono molto più grosse hanno un altro tipo di struttura fisica ti ricordi di vecchi giocatori di calcio di panzer poi noi ci mettiamo sempre le nostre considerazioni tra un prodotto e l'altro poi anzi siamo contenti siamo arrivati a 141 no 141 accusate ma no 400 441 441 iscritti e speriamo di evitare ancora ho la testa proprio visualizzazioni altissime bene bene cosa abbiamo qua l'amica perché è stata la gente non sa che cazzo fare no perché anche gli altri anni l'abbiamo fatto non mi è successo aspetta dobbiamo salutare una persona è vero dobbiamo salutare una persona ricordi io mi ho detto iscriviti adesso guardiamo perdonaci Galimberti Emanuele Galimberti che è stato ci ha detto mi saluti nel prossimo video va bene ciao Emanuele Galimberti sei veramente molto eh a seguirci e seguiteci anche in alto se volete essere salutati si si ditecelo noi scriviamo speriamo di essere ricordato bene il nome bisogna scriverlo chiaramente io ho detto scrivetelo che poi ci dimentichiamo il nome cioè Emanuele guardaci sempre poi qua abbiamo il pane questo qui pane morbido di grano tenero S lunga questo qui 400 grammi è il classico pane cassetta cassetta si chiama giusto è bauletto pan bauletto non è cassetta questo è pan bauletto cassetta è quello dei pan che avevi dei tosse Monica fa il mio cervello perché il mio è andato allora fa un bauletto ecco qua vediamo quanto c'è nel saccone qui cosa abbiamo qui ecco la camomilla solubile di solito la prendevamo nei filtri abbiamo trovato questa qui ma ancora cos'è con un cucchiaino devi prendere no c'è la bustina la versi no è già solubile così non c'è bisogno di fare l'infuso si 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 è meglio costava un pochettino di meno abbiamo preso questa scusate il ruttino perché ho preso un po' di caffè e sto bevendo degli ettolitri di acqua e devi ma io faccio delle sudate perché vado anche a piedi faccio delle sudate ogni volta una maglia nuova perché porca miseria tutte le maglie del canottiere le fate fuori la doccia poi camomilla solubile l'avete visto qui 20 bustine perché monica se ne spara due tutte le sere mi fa piacere mi fa piacere infatti lei ha preso io ho preso un caffè normale lei è decaffeinato macchia di 30 abbiamo speso 2,20 euro ce li siamo portati al nostro tavolino e ci siamo presi le nostre cose tranquilli si sta bene ora poi c'è qualcosa ecco qua poi un'altra cosa la birra questa che costa veramente poco Burgfürst questa qui cos'è tedesca? non so se è tedesca ora guardiamo ci sono tante birre che sono prodotte in Polonia sono molto buone ovviamente non trovo l'italiano prodotte in Germania hai capito che qui è la destra? mettete tutte le mani così? come ho fatto vedere la strassi che è ben rimasto l'unico con le mani così bene adesso levate mano devo andare via perché? allora quindi c'è la birra questa qui pagata poco ovviamente semplici scaffali bassissimi altezza tacco non la trovi a questa altezza qui dovevo trovarle io vabbè te sei piccina ma adesso non la troviamo poi queste saponette altro prodotto altro prodotto costa un po' che abbiamo già provato ci troviamo bene sono profumate questa l'abbiamo già provato ci troviamo bene perché dovete sapere che Monica è la cultrice di saponi saponi intimi bagnoschiuma bagnoschiuma più profumati sono più mi devo lavare ok va bene se potessi stare sotto la doccia ogni tanto di notte di sera io mi faccio una bella doccia fredda e mi rigenera di fredda non ce la faccio io no vai proprio la cercando tiepida tiepida mi metto lì metto sotto la doccia allora queste qua sono le quattro saponette va bene non ci diminuiamo più di tanto perché allora quanto siamo 14 minuti madonna come siamo stati noiosi poi di nuovo e se lunga piatti anche questo costa poco anche qui bisogna fare la gincana tra prodotti molto costosi perché ci sono anche tantissimi prodotti un'immensità un mare di prodotti è molto vasto tantissimi prodotti certo come ho già detto se voi a voi piacciono prendeteli per carità ma no c'è una grande scelta uno è libero di fare quello che vuole anche pietanze già pronte ci sono c'è tantissimi di una plastica che io non so neanche più dove guardare praticamente i fornelli li prendi di butti via perché tanto non sape neanche dove guardare tutto pronto è già tutto pronto non so dove guardare per i pigri oppure magari c'è tantissima roba è grandissima ma è quasi più grande della vita sì non sarà grande come l'ipercop è più grande eh sì più o meno ce la mettiamo lì poi è tutto indicato molto bene le varie corsie i cosi beh quello è anche l'ipercop anche l'ipercop però poi è più chiaro è più chiaro è più chiaro va bene questo qui è se lunga piatti poi avevamo finito il detergente per i pavimenti e abbiamo che qua poi lo preveremo alla cosa cosa si chiama con l'altra cosa oggi c'ho i neuroni andati ah c'è la lavanda alla lavanda non mi piace mi fa venire un po' nausea quel odore la lavanda non mi piace preferisco più il limone che mi dà più un senso di non so anche di pulito di pulito e questo qui è sembra da mmm da bere no scherzo senza risciacqua vabbè per tutte le superfici però questo qua chiaramente per i pavimenti va bene perché magari anche la rinfrescata al pavimento ci sta bene che è questo freddo questo freddo sì questo caso poi ecco questo qui abbiamo preso le Chante Claire forza di igiene sgrassatore con candeggina ecco questo qua è una mano santa perché già sgrassa tanto il sapone di Marsiglia ma se ci mettiamo anche la candeggina va molto bene questa cosa qui poi sgrassa in profondità e questo qui l'avevamo finito anche qui ecco poi cosa abbiamo ancora qui c'è ancora qualcosa di nuovo s lunga ci scherza anche igienizza smacchia di odore pezzi di nuovo germi e batteria ok perfetto quindi quando è per pulire il bagno va benissimo poi il tè alla pesca s lunga eccolo qui questo qui l'abbiamo preso lo zucchero stavolta tra lo zucchero normale perché c'è questo quello senza zucchero quello senza zucchero c'era non l'ho visto non ci ho fatto a caso tenghi tenghi eccolo qua poi che cosa abbiamo oh no aspetta no ho trovato ho trovato un po' quando mi cerca il portafoglio ho preso ho preso ho preso ho trovato no eccolo qui sì ecco qua il dentifricio così proviamo anche questo dentifricio extra protection azione batterica contoplacca e cavie aiuta a forzare lo smato tutte balle comunque vabbè che è il classico dentifricio profumato eccetera alito fresco c'è la menta piperita è meglio e lì ho visto che c'è anche il marvis che non lo trovo mai non mi guardare male ma dai cosa hai detto ma forse mi vengono giù le lacrime se adopera quello dai non capisco cosa ho detto di male tu dici sento di male perché se volessi usare il marvis non posso usarlo no troppo forte sì queste donne non ti comandano loro non c'è niente da fare un po' come tutti i genovesi che noi genovesi se dobbiamo dire una cosa magari ne diciamo un'altra comunque il dentifricio hexaprotection e qua mi sembra che abbiamo finito la nostra rassegna aspetta vediamo un po' se ho preso dell'altro no è finita è finita vabbè abbiamo preso tanti pezzi carellino vuoto ecco qua abbiamo preso un po' di pezzi lo scontrino dovrei averlo nel portafoglio e poi ecco c'è il parcheggio si prende un biglietto al parcheggio all'ingresso del parcheggio poi alle casse bisogna ricordare di farselo timbrare perché e io l'altra volta ce l'ho andato da solo non l'ho fatto timbrare e poi per fortuna un parcheggiatore molto gentile mi ha aiutato mi ha detto no 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 non si preoccupi vabbè tanto c'è la data di di quando cioè l'ora di quando è entrato perché si può stare massimo mi sembra due ore giusto ma hai fatto due ore cioè fai delle cose no e così stavolta abbiamo fatto timbrare ecco il prossimo step sarà quello di fare la tessera no e faremo la tessera perché c'è la chiesta eccetera quindi le nostre spesine le facciamo non facciamo mai delle spesone grosse se vedete così qualcosina c'è speriamo che sia stato di bello da vedere di vostro gravide di vento salutiamo tutti quelli che ci seguono da sempre salutiamo i nuovi passiamo sempre dal canale se si iscrive siamo così contenti se aumentiamo se facciamo la comunità ma almeno ma dico ma 500 ma almeno fate già arrivare a 500 non dico mille perché è figuriato troppo è troppo mille ma 500 ma noi comunque siamo contenti di essere iscritti se volete commentare benvenga al commento che siamo contentissimi contentissimi del commento siamo contentissimi anche di questo se vi viene voluto di essere salutati ditecelo si 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 ci fa piacere anche a noi ce lo scriviamo perché è chiaro che non possiamo ricordarci il nome così l'avete visto il nome adesso il nome scusate scusate su Galimberti non mi ricordavo adesso me l'ha proprio passato non sappiamo se è genovese penso che sia genovese ma non sappiamo se è genovese non sei genovese ok va bene no ma va bene no chi se ne frega no non è vero siamo buonissimi noi genovesi fermiamo a Burberry ma non siamo Burberry siamo famosi c'è anche il sito www.ilmubugnogenovese.it.com mi ricordo dove spiega quanto siamo che poi siamo buoni in fondo no abbiamo detestiamo soltanto il casino la confusione e basta e bene allora ci vediamo alla prossima avete visto io il video della macchina da cucire che tanto ostacolato da mia moglie è andato bene però è andato benino insomma è piaciuto ecco non ho avuto delle difficoltà di ripresa perché non sapevo bene come mettere il coso adesso mia moglie sta guardando lì perché dobbiamo il prossimo video che farò adesso faremo gli altri video di dispesa il prossimo video che farò sarà quello di mettere l'anticorrosivo l'anticalcare per la caldaia perché adesso è buona norma mettere questi grani anche perché è una caldaia nuova bisogna mettere questi grani di polifosfato che di nuova generazione si impediscono il formarsi di calcare quindi che la caldaia si rovini quindi adesso dopo questo faccio il video per far vedere come si cambiano questi polifosfati è una fesseria possiamo farlo tutti va bene ciao a tutti ciao a tutti un bacione un abbraccio fortissimo tutti tutti un salutone e vedrete che poi verrà al solito un po' d'acqua un po' di un tempo un po' raluccio poi c'è caldo di nuovo ancora un po' di caldo e godiamocela quest'estate perché poi avremo tanto da battere i denti quest'inverno giusto e poi caloriferi quanto bisognerà tenerli accesi che poi farà freddo va bene c'è un po' di caldo va bene resistiamo ancora un po' tanto di luglio a agosto poi finiscono poi arriva settembre va bene va bene ciao a tutti ciao 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 ciao